Non avete ancora nessuna idea per il menù di Pasqua? Vi piacerebbe fare bella figura con amici e parenti senza passare ora in cucina? Noi di Mimipastificio abbiamo la soluzione per voi. Abbiamo pensato a un menù che parte da materie prime selezionate, già pronto, solo più da impiattare e scaldare, da gustare a casa vostra con amici e parenti. Come primo antipasto vi proponiamo pesce spada marinato al peperosa su un letto di misticanza. Proseguiamo con una fresca insalatina di coniglio sott'olio elevato a terra, asparagi di revello e noci. Come terzo antipasto vi proponiamo uno sformato di agretti accompagnato da una morbida toma del berget di alto alpeggio. Il primo sono gli agnolotti all'ortica conditi con burro di montagna e erbette fresche. Gli agnolotti, essendo molto delicati, vi consigliamo di cuocerli per pochissimo tempo e di versargli sopra il burro fuso aromatizzato alle erbette. Come secondo, l'agnello nostrano del Piemonte, cotto lentamente accompagnato da spinaci e carote. Infine, come dolce, uno sfumino allo yogurt con fragole e frutti di bosco. Da assaporare in accompagnamento al vostro dolce pasquale, vi omaggiamo di una soffice crema. Se vi abbiamo stimolato la fantasia e l'appetito, vi ricordiamo che questo menu è su prenotazione. Vi aspettiamo in pastificio. Buona Pasqua a tutti!